Mi occupo degli aspetti health and safety legati a risorse e ambienti lavorativi. Sicuramente il dinamismo della mia posizione, il potermi interfacciare ogni giorno con persone differenti e anche il fatto di poter contribuire con delle mie azioni a diminuire i rischi per gli ambienti lavorativi in cui operiamo e per i miei colleghi. La gestione è a volte macchinosa dell'organizzazione dei corsi di formazione e da ingegnere probabilmente l'essere poco presente sulle attività operative. Responsabilità, curiosità e inclusione Perché è un ambiente stimolante, inclusivo, con molti giovani, dove se si è curiosi si ha davvero modo di imparare molto. Grazie per la visione! Grazie.